cari amici di androidblog.it ciao a tutti dal vostro alessandro dunque cosa abbiamo qua sotto oggi sorpresa sorpresa non sto nella pelle ve lo faccio vedere nexus 7 ebbene si è lui finalmente anche in casa androidblog.it arriva il gioiellino di casa asus barra google primo tablet di google dispensate pollici ormai l'abbiamo visto e conosciuto più o meno tutte le salse lo ammetto volevo fare un qualcosa di un po' anticonformista un po' fuori dalle regole però cosa ci volete fare l'etichetta impone determinati passaggi quindi oggi senza tediarvi troppo passiamo molto rapidamente dall'unboxing successivamente nei prossimi giorni andremo a vedere quello che è hardware tour e software tour per arrivare verso fine settimana direi al scusate si verso fine della prossima settimana alla una recensione che vi preannuncio decisamente piuttosto approfondita e anche con qualche piccola sorpresa se ci riuscirò inoltre vi anticipo già ci sarà un bello scontro perché come tutti quelli che mi seguono sanno in casa ho un galaxy tab 2 7 pollici versione wifi 3g poco importa sarà un bello scontro faremo un videoconfronto molto ma molto interessante anche perché il mio galaxy tab grazie a samsung che ci ha messo del suo e sam mobile che ha reso disponibile un aggiornamento licked a jelly bean attualmente gira con jelly bean 4.1.1 quindi scontro la pari rimanete con noi torniamo al nexus 7 nexus 7 l'abbiamo già visto più o meno tutte le salse io ovviamente mi è arrivato oggi non ho saputo resistere la scatola l'ho già aperta però il rito merita quindi proseguiamo apriamo la scatola come vedete cioè la scatola devo dire che è molto bella è una scatola di cartone normalissima però all'interno nera marchiata nexus mi è sempre piaciuto fin dalla sua presentazione il tablet messo in diagonale che va a formare il numero 7 molto carino andiamo ad aprire la scatola chiedo scusa ma sono come al solito in una posizione un po stramba perfetto qui abbiamo il nostro bel tablet come già detto lo andremo poi a vedere in maniera approfondita nei prossimi giorni e con i vari focus comunque il tablet è molto bello vetro davanti e plastica dietro chiedo scusa ok plastica sembra micro forata una cosiddetta strana è un è plastica ma sembra quasi gommosa comunque devo dire molto molto bello la linea mi piace tutto nero con il bordino grigio in alluminio direi molto molto bello la linea è molto piacevole sinceramente ho sentito qualcuno che diceva ricorda un po il nexus 6 il galaxy nexus sinceramente ci vedo veramente poco del galaxy nexus se no i puntini per collegarlo nella doc che sono qua le connettori per collegarlo alla doc in realtà boh ci vedo veramente poco comunque molto bello andiamo avanti vediamo cosa c'è dentro la scatola qua dentro basta qui apriamo da che parte si apre qui ok perfetto abbiamo niente questo qua è la sacchettina che avevo già aperto il cavo micro usb perché google rispetta le leggi europee che impongono l'utilizzo dello standard per il caricatore e il classico caricatore asus per chi ha un occhio scuso dato ancora qua la telecamera per chi ha un tablet di casa di casa di casa asus penso che conosca questo tipo di connettore è praticamente lo stesso del dei tf 101 e penso anche tf 201 è identico a quello del del transformer insomma sono veramente curioso di vedere se se è come quello del transformer quindi 3.0 oppure no ma faremo una ripeto farò una recensione molto approfondita successivamente per il momento come unboxing direi che mi sono già dilungato fin troppo quello che c'è è tutto qua non ci sono auricolari non c'è niente in dotazione c'è il manuale di garanzia e la quick start guide che in teoria dovrebbe insegnarci come utilizzare il tablet ma penso che sotto questo punto di vista non ci siano problemi bene cari amici del tablet blog.it come anticipato vi rimando ai prossimi giorni per tutto quello che sono i vari approfondimenti come al solito qualsiasi domanda e qualsiasi richiesta sono sempre a vostra completa disposizione ciao a tutti dal vostro alessandro